Un pubblico che definire delle grandi occasioni è forse riduttivo e uno spettacolo che raramente si vede dalle nostre parti. La bocciofila San Cristoforo di Fano fa di nuovo centro e questa volta non lo fa dal punto di vista dei risultati ma da quello organizzativo, con il secondo trofeo Lisippo, una doppia gara nazionale a coppie organizzata lunedì 1 maggio alla quale hanno partecipato i big nazionali di questa disciplina, provenienti da ogni parte d'Italia. La vittoria nella gara riservata alla massima categoria è andata Davide Paolucci e Gabriele Marinelli di Castelfidardo, che in finale hanno superato i campioni del mondo della Caccialanza Milano, Luca Viscusi e Mirko Savoretti. Di spessore anche le coppie terze classificate, ovvero Gaetano Miloro e Gianluca Monaldi della Vigasio Villa Franca Verona e Luca Santucci Giuliano Di Nicola della Sant'Angelo Montegrillo Perugia. Un iconeo a voler proprio trovare il pelo nell'uovo è il non approdo alle fasi finali di nessuna coppia di casa nella categoria A, ma patron Paolo Marchionni può comunque ritenersi soddisfatto, visto che appena 48 ore prima la squadra della massima categoria, vincendo in casa contro Roseto, era riuscita a consolidare il primato in classifica nel campionato di Serie B. Tornando al trofeo Lisippo, invece, è finito a Pesaro quello per le categorie B, C e D, grazie a Danilo Allegrezza e Cristian Filippucci della Rinascita Villa Ceccolini, vittoriosi sui baby dell'Ancona 2000 Tommaso Biagioli e Matteo Martini. Podio per Daniele Faccondini Silverio Ruggeri, sempre della Rinascita, e Bruno Ambrogiani Gastone Biagiotti dell'Oicos Fossombrone. Un fine settimana da pollice in su dunque per la San Cristoforo, che in questi giorni può esultare per altri due traguardi raggiunti. Il conferimento da parte del CONI della Stella d'Argento al merito sportivo per l'anno 2021 e la convocazione per uno stage con la nazionale del sedicenne Riccardo Giacomoni.